Benvenuti in questa nuova puntata di Deepen, io sono Zap e oggi siamo su Deepen Scienza con una puntata totalmente improvvisata, come dicevo prima ai nostri seguaci su Twitch e cogo l'occasione per ribadirvi che siamo in live sia su Twitch sia su Spreaker, intanto mi arrivano messaggi su Telegram del gruppo. Se volete quindi vedere la mia faccia devastata da una sessione di studio di statistica misto psichiatria potete tranquillamente venire in live su Twitch, altrimenti potete seguirci su Spreaker come al solito, mandateci un bel messaggio quando siete online. Ma soprattutto vi ribadisco che se vi siete persi le live di Twitch, sia di Deepen Scienza che di Deepen Crimini, verranno caricate sul nostro canale YouTube, quindi le troverete in versione integrale sul nostro canale YouTube, è gratuito quindi andate a iscrivervi senza nessunissimo problema. Ma poi, insomma, come dicevo prima, sempre su Twitch ci saranno dei progetti anche per il nostro canale YouTube, gli daremo un minimo di decenza. Come al solito vi suggerisco se ci raggiungete su Twitch di abbonarvi gratuitamente, se siete possessori di un abbonamento Amazon Prime che vi dà diritto appunto ad un abbonamento gratuito, trovate una guida su come farlo sempre sul nostro canale YouTube. So che abbiamo tanti canali, tante cose, ma purtroppo questa è la vita degli influencers. No, è vero. È un po' un casino, purtroppo non c'è una sola piattaforma che è in grado di fare un po' tutto quello che ci serve, quindi siamo costretti a balzare da una piattaforma all'altra. Capisco che questo per molti sia un po' difficoltoso e anche un po' una noia. Non vi dico per me che devo stare a gestire 10.000 programmi diversi, ma comunque tant'è, quindi se avete voglia di seguirci fate questo piccolo sforzo. E se volete darci una mano potete anche condividere le nostre puntate sui vostri social, su Instagram, taggateci, pubblicate su Facebook, su WhatsApp, dove vi pare. Allora, mi chiedono su Twitch subito domanda bruttissima. Come è andato l'esame? L'ho balzato. L'ho balzato, lo darò la settimana prossima, perché non mi sentivo assolutamente pronto. È l'esame di statistica che mi mette un po' in crisi e quindi ti dirò settimana prossima. Spero che andrà bene. Oggi parliamo di diverse cose, in realtà. Una puntata che, forse anche perché l'ho un po' improvvisata, nel senso che non avevo bene in mente cosa dire, alla fine ho buttato giù delle idee ed è uscita una puntata molto complicata, cosa che vedrai che spaccherai, speriamo, speriamo veramente. Una puntata difficile perché oggi volevo sia proseguire il filone dei falsi miti a proposito del vaccino del Covid, che non voglio sostanzialmente abbandonare e così gettare nel cestino. Ho arrivato anche Venu su Spreaker, che chiaramente Venu è il mio consulente di statistica e mi scrive Dai e Colatti di Student. Tra l'altro, se vedete bene su Twitch, dietro lì c'è la lavagna con il mio schemino da deficiente sul T-Student e sul test Z, queste cose che non vi interessano, ovviamente. Comunque, stavo dicendo, a parte le mie vaccate, che parliamo di due falsi miti del Covid. Uno molto, molto breve, perché in realtà ci ho già fatto una puntata intera e andate ad ascoltarla se non l'avete sentita, ed è a proposito del plasma iperimmune. Quindi era uscita, diciamo, avevo fatto una puntata durante una maratona live insieme a Palla, quindi una puntata un po' concitata, però devo dire che i concetti non l'ho riascoltata, però mi sembra che i concetti li avevo detti tutti. E oggi facciamo un piccolo aggiornamento. Poi parliamo di un altro falso mito gigantesco, ovvero che il vaccino del Covid possa provocare delle mutazioni genetiche. Vi spiegherò perché è un falso mito, quindi perché è una fake news. Non vi dirò solo no, non è così, come al mio solito, ma cercherò di spiegarvi in modo semplice, ma comunque approfondito il perché. Ciao Claire, ben arrivata. E poi vi voglio appunto parlare di un interessantissimo, come dire, articolo che ho letto su Le Scienze. Un articolo veramente complesso, sono tipo dieci pagine di articolo, arrivi alla fine che sei distrutto, però super interessante. Quindi sul finale, diciamo, della puntata cercherò di riassumervelo e di semplificarlo di modo da farvi capire quanto questa, diciamo, scoperta sia fondamentale per la medicina, per la biologia e un po' per tutta la scienza. Quindi partiamo subito con il plasma iperimmune. Allora, plasma iperimmune ne avevo già parlato, come detto prima, nell'altra puntata e se non l'avete sentita andatela a sentire perché è una puntata un po' irosa, un po' come dire, non complottista, però un po' lamentosa, insomma, di un servizio che mi hanno fatto Le Iene a proposito del plasma iperimmune in piena pandemia che, a mio parere, era molto forviante. E quindi andatela a sentire perché è importante e lì vi spiego come funziona il plasma iperimmune. Oggi volevo dirvi che avevo fatto quella puntata lì, penso, almeno sei mesi fa, forse non di più, e quindi mi sono chiesto, visto che il plasma iperimmune è uno di quei baluardi che i Novax portano sempre a discussione se ci fossero state delle news, delle novità che mi ero perso e che quindi avevano riportato in auge questa, diciamo, terapia. E in realtà, con il mio grande sconforte, in realtà, perché non ci sono sostanzialmente delle novità, devo confermare quello che ho detto nella scorsa puntata, nel senso che è stato fatto un altro studio che è stato chiamato Tsunami, uno studio abbastanza controverso e mi viene da dire anche poco statisticamente significativo, visto che abbiamo parlato di statistica e, appunto, l'esame che dovrò affrontare è proprio verte su questa materia, cioè su questo argomento proprio, che ha diverse falle, nel senso che, in primis, di base ci sono troppi pochi, diciamo, i numeri sono troppo bassi, quindi le persone che sono state sottoposte al trial non sono sufficienti a dare una, diciamo, una validità scientifica a questo studio e, oltretutto, i risultati sono dimostrati, appunto, essere non statisticamente significativi e quindi devo, a malincuore, ribadire il fatto che il plasma iperimmune al momento non è una via percorribile. Magari lo sarà in futuro perché, effettivamente, ci sono delle evidenze di alcuni pazienti che hanno risposto bene al plasma iperimmune, ma sulla statistica, quindi sui grandi numeri, non c'è stata alcuna differenza di outcome, quindi di, diciamo, come posso dire, di risoluzione, anche se non vuol dire quello outcome, però ci siamo capiti, tra chi prendeva il plasma iperimmune e chi invece faceva la terapia standard. Non ci sono state, quindi, delle differenze se non in alcuni pazienti che erano stati sostanzialmente presi in tempo, quindi che avevano una patologia da Covid-19 molto blanda e, soprattutto, senza necessità di ventilazione attiva, quindi, o meglio, con ventilazione attiva, ma non con il respiratore, e quindi, sostanzialmente, pazienti che erano ancora in degli stati blandi di malattia. Oggi non riesco a parlare, sono veramente stanco morto. Comunque, avete colto il concetto, non ci sono delle novità, quindi, sfatiamo anche questo mito del plasma iperimmune come la cura di tutti i mali, specialmente del Covid-19, perché, effettivamente, non è così. Mi piacerebbe che lo fosse, perché sarebbe un ottimo strumento, ma, purtroppo, non si è dimostrato efficace. Passiamo, poi, alla bufola del vaccino che provoca mutazioni genetiche. E questa mi sta particolarmente a cuore, perché è una di quelle, come dire, di quelle bugie con un fondo di verità. Nel senso che ci sono, effettivamente, dei virus a RNA che sono in grado di provocare delle mutazioni genetiche, ma il Covid, in realtà, in alcune situazioni molto particolari, si è dimostrato avere questa capacità, non, però, con l'RNA del vaccino. Quindi, andiamo con ordine, perché la questione è complessa. Allora, la questione del vaccino che può provocare delle mutazioni è solitamente accompagnata dal fatto che non sappiamo quali siano le conseguenze a lungo termine del vaccino a mRNA e che probabilmente queste siano associate alle mutazioni genetiche provocate dal vaccino stesso. Allora, esiste un dogma nella biologia. Un dogma che è stato, appunto, in tutto e per tutto un dogma, nel senso che non era mai stato sconfessato fino agli anni Ottanta, dogma della biologia che ci parla del DNA come fonte di, diciamo, informazioni genetiche e questo DNA viene... dal DNA si parte per produrre l'RNA e dall'RNA si arriva alla produzione delle proteine. Il dogma sta nel fatto che, appunto, il senso, il verso di questo movimento, di questa produzione delle proteine possa andare... adesso ti rispondo, Claire. Possa andare solo in questo verso, quindi dal DNA all'RNA alla proteina. Allora, qui mi chiedono a lungo termine quanto. Lungo termine si parla già di pochi anni fino a decenni e, in realtà, la spiegazione che vi darò stasera spiega entrambi. Non ci saranno danni a lungo termine, a meno che non ci siano, appunto, degli effetti collaterali, ma quella è un'altra storia, quindi non c'entra con le mutazioni genetiche e quindi fa parte di un'altra macro-categoria che non fa parte di questa fake news, ma ovviamente sappiamo che ci possono essere delle conseguenze da vaccino, degli effetti collaterali, come da tanti altri farmaci anche molto gravi e che possono portare delle sequele anche importanti, ma, di per sé, chi non fa il vaccino a RNA non lo fa, appunto, pensando che questo possa provocare delle mutazioni genetiche, e questo non è vero. Leggo i vostri commenti e intanto bevo un sorso d'acqua. La conoscenza degli effetti conosciuti dei vaccini a RNA. Non ho capito bene, Claire, ma spiegati meglio che magari ti rispondo adesso. Quindi, dogma della biologia, DNA, RNA e proteina. Si pensava valesse sostanzialmente per tutti i sistemi biologici fino all'avvento dell'HIV. L'avvento dell'HIV, che, insomma, voglio fare una puntata intera sull'HIV, non solo sulla questione HIV proprio medica, quindi sulla malattia in sé e sul virus, ma anche sull'effetto storico che ha avuto questa malattia, appunto, nella storia della medicina, perché è molto importante. Uno degli effetti, appunto, è stato sconfessare questo dogma. Quindi abbiamo scoperto tutta una serie di virus che sono in grado di invertire questo flusso, quindi da DNA a RNA a proteina, perché possiedono sostanzialmente un enzima che si chiama retrotrascrittasi o trascrittasi inversa, che è in grado, appunto, da RNA produrre del DNA, o meglio, andare a integrare il proprio codice genetico sotto forma di RNA all'interno del DNA dell'ospite. Questa scoperta ha sostanzialmente rivoluzionato la medicina negli anni Ottanta. Dopo questa scoperta sono state fatte tantissime altre scoperte. Oggi siamo in una situazione di conoscenza, non si può dire assoluta ancora, di questa materia, perché, insomma, la conoscenza assoluta nella scienza non c'è mai, quindi può essere che fra qualche anno scoprano qualcos'altro, ma abbiamo scoperto, quindi, la retrotrascrittasi, che è fondamentale. Quindi la retrotrascrittasi prende questo RNA, si infila nel DNA dell'ospite e in questo modo permette al, insomma, al genoma virale di riprodursi insieme alla cellula e quindi la cellula riproducendosi, producendo le proprie proteine, sostanzialmente va a produrre anche proteine del virus e quindi così viene scatenata l'infezione. Questo è molto importante perché, ve lo dico dopo, ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che, insomma, delle co-infezioni, anche la Covid, possano provocare questa cosa, ma non c'entra con la nostra bufala. Noi siamo rimasti all'RNA del vaccino. La bufala del vaccino, infatti, dice che sia il vaccino, quindi l'mRNA contenuto nel vaccino, a poter provocare la formazione di mutazioni. Questo è falso sotto tantissimi punti di vista. Oggi cerco di toccare i principali in maniera molto semplice perché non voglio fare veramente una puntata super pesante. Allora, prima di tutto, nel vaccino non è contenuto tutto il DNA, quindi, o meglio, tutto il genoma del virus, ma soltanto l'mRNA della proteina Spike, che è una proteina di superficie di cui vi ho parlato lungamente in una puntata dedicata, quindi andate a recuperarla. L'mRNA viene sostanzialmente, quindi, infilato all'interno in una goccia lipidica, quindi di un grasso, perché, molto banalmente, perché i grassi sono in grado di attraversare molto meglio la barriera cellulare rispetto alle cose idrofiliche. Quindi, le cose idrofiliche ci siamo spiegati, mentre i grassi, essendo lipofilici, sono in grado di, insomma, attraversare questa membrana cellulare, che è costituita estremamente, chiaramente, da lipidi. Quindi, cosa fa? Si infila all'interno della cellula e serve a, sostanzialmente, produrre delle copie di questa proteina. Queste copie della proteina finiscono in circolo, vengono riconosciute dal nostro sistema immunitario, e quindi noi possiamo avere un'immunizzazione rispetto a, appunto, il coronavirus, quando lo incontreremo intero, perché il nostro sistema immunitario, quindi i nostri... non mi viene la parola, non mi viene il termine, le nostre monoglobuline, i nostri anticorpi, sono in grado di riconoscere questa proteina. Anche questa cosa è molto importante per quello che vi voglio raccontare dopo, perché, chiaramente, lo studio di cui vi parlavo parla proprio di questo riconoscimento delle proteine. Bevo un sorso d'acqua e intanto leggo il commento di Claire. Allora, sostanzialmente Claire mi chiede, per chi fosse su Spreaker o seguisse dopo la puntata, cosa intendiamo col lungo termine? 5 anni, 10 anni, 20 anni? Non ti so dare una risposta. Col lungo termine intendiamo il non acuto, quindi il non immediato. Possiamo parlare di giorni, mesi, magari un anno per il breve termine, possiamo parlare di 2, 3, 5, 10, 50 anni per il lungo termine. Ogni malattia, diciamo, ha i suoi effetti. Diciamo a breve termine, a lungo termine, consideriamo a breve termine quelle che succedono proprio nell'immediato, quindi nei giorni successivi, nei mesi successivi, possiamo dire. Spero diverti risposto, Claire. Non c'è una netta linea di confine che dice da qui è breve termine, da qui è lungo termine. Spero che tu abbia capito. Quindi, perché questo benedetto mRNA non può provocare mutazioni? Allora, prima di tutto, perché l'mRNA del vaccino non raggiunge il nucleo, quindi, il nucleo contiene il nostro DNA, quindi se non lo raggiunge, come fa l'mRNA a infilarsi dentro questo DNA? Sono in due zone diverse, sono in due zone separate dalla cellula. Le proteine vengono prodotte nel citosol, quindi fuori dal nucleo, mentre il DNA sta dentro al nucleo. E il nucleo, attenzione, che è vero anch'esso formato da uno scudo, diciamo, di lipidi, ma è fortemente selettivo su ciò che può entrare e ciò che non può entrare. Infatti, l'mRNA è in grado di uscire dal nucleo, ma difficilmente fa, diciamo, la cosa avviene in verso contrario. Secondo poi, questo mRNA si esaurisce, perché sostanzialmente non provocando appunto queste mutazioni non viene poi riprodotto dalle cellule stesse e quindi non ne troviamo più traccia dopo pochi giorni in realtà. E quindi questa è una spiegazione in più del fatto che... Anzi, ve lo dico dopo, ve lo dico dopo. Quindi, mettiamo caso per assurdo che questo mRNA possa raggiungere il nucleo. Anche in quel caso non potrebbe integrarsi con il DNA. Primo, perché il DNA e l'RNA è vero che sono entrambi acidi nucleici, ma sono due cose completamente diverse. So che, se vi dico che sono tutti e due acidi nucleici, che uno si chiama DNA e l'altro si chiama RNA, sembrano due cose simili, quindi... Ma perché non potrebbero fondersi insieme, così per contatto a caso? Assolutamente no. Cioè, sono due persone che parlano lingue diverse. Sono veramente... La loro costituzione, la loro struttura è diversa anche se sono prodotte a partire dagli stessi mattoncini, no? Per farci capire. Quindi non c'è modo che magari per contatto, per vicinanza, i due si mischino. È una follia biologica. Secondo poi, quindi come fanno i virus che sono in grado, invece di integrare il loro RNA nel DNA, appunto, com'è possibile che questo avvenga? Perché possiedono un enzima, quindi un catalizzatore di una certa reazione, che adesso non sto a spiegarvi, che fa proprio questo. Quindi permette questo meccanismo e il fatto è che questo enzima, nell'essere umano non esiste. Quindi assolutamente non c'è possibilità che questo avvenga. La retrotrascrittasi o trascrittasi inversa nell'uomo non c'è. E è fondamentale il fatto che non ci sia, perché appunto, come vi dicevo prima, non c'è nessun altro meccanismo con il quale l'RNA si può fondere con il DNA. E, piccolo spoiler, appunto, quello lo riesce a fare in alcuni casi il Covid, secondo uno studio dell'MIT, che è stato pubblicato l'anno scorso. Ma ci arriviamo dopo, perché voglio farvi cogliere proprio la... non so, neanche la stupidità, però la cosa divertente, insomma, della questione di chi dice che non fa il vaccino del Covid, perché ha paura, appunto, delle mutazioni genetiche. Secondo punto, questo RNA abbiamo detto che si degrada e col tempo sostanzialmente viene distrutto, perché si degrada un po' di suo, sostanzialmente, possiamo dire che va male, sto facendo delle virgolette gigantesche per chi può vedermi, e inoltre può essere riconosciuto da alcuni sistemi della cellula che lo distruggono attivamente. Quindi, questo per farvi capire che l'RNA è per definizione qualcosa di temporaneo. È proprio... si chiama, appunto, anzi, RNA messaggero, perché porta un messaggio da un punto all'altro della cellula per produrre una proteina, ma deve essere temporaneo. E questo è spiegato dai sistemi di controllo, sostanzialmente, del DNA e dell'RNA stesso. Nel senso che, andando per gradi, il DNA deve rimanere tendenzialmente immutato per tutta la vita. Questo vuol dire che, ne avevamo parlato anche questo in un'altra puntata, dei sistemi di riparazione NER e BER, che sostanzialmente vanno a riparare di continuo e controllano di continuo il DNA in modo da mantenerlo costante nel tempo. Questi sistemi non sono attivi allo stesso modo sull'RNA, perché l'RNA non c'è bisogno che sia perenne, anzi, deve degradarsi, ed è per questo che dal DNA viene prodotto un sacco di mRNA per produrre un sacco di proteine. Non so se mi sono spiegato, ma, se il DNA deve essere permanente, l'RNA per definizione deve essere degradabile, perché la cellula non ha bisogno di mantenerlo, anzi, farebbe un danno perché una produzione di un errato mRNA farebbe produrre una proteina magari con conformazione sbagliata o con dei difetti, possiamo dire, in generale. La cellula non è stupida, la cellula non sfrutta le sue energie per produrre proteine sbagliate. L'mRNA può, in alcuni casi, risultare sbagliato per alcuni errori casuali che avvengono o piccole mutazioni che possono avvenire, però, di per sé, deve essere eliminabile e producibile nuovamente, in modo che la nuova produzione venga corretta e che quindi la proteina poi venga corretta. Quindi, se anche un mRNA uscisse male, possiamo dire, produrrà una proteina che funziona male e quindi verrà distrutto sia la proteina in maniera attiva sia l'mRNA in maniera passiva e attiva. Quindi, tutto questo sistema fa sì che non ci sia via di scampo e una cosa che ho sentito dire mi sto un po' perdendo dai miei appunti ma mi stavano venendo in mente le cose è che questo mRNA raggiunge tutto il corpo quindi anche il cervello anche il midollo tutto quanto e quindi cioè il fatto che raggiunga tutto il corpo non è influente sul fatto che possa o meno produrre delle mutazioni anzi se non raggiungesse tutto il corpo mi verrebbe da dire che non sarebbe efficace quindi domanda a queste persone che magari sono ancora in dubbio o magari si sono fatte influenzare da altri Novax mi spiegate come qualcosa di temporaneo possa provocare dei danni o delle mutazioni a lungo termine perché io non me lo spiego magari mi sbaglio io quindi vi invito a lasciarvi un commento nella puntata di Spreaker su Youtube su Instagram dove dove vi pare quindi magari se sono cieco da questo punto di vista rendetemi come si dice normo dotato visivamente non non vorrei insomma che qualche ipovedente si incazzasse quindi questo ve l'ho già spiegato quindi non sto a tediarvi allora la cosa che vi volevo far notare prima sostanzialmente è che chi non fa il vaccino per paura della mutazione va incontro a possibili mutazioni nel senso che rischiare di prendere il Covid è stato dimostrato essere un fattore predisponente alla formazione di mutazioni genetiche questo perché in presenza per esempio di HIV quindi di virus che posseggono la retrotrascrittasi che quindi sono in grado di compiere questo cammino in senso inverso dall'RNA verso il DNA potrebbe integrarsi anche all'interno della nostra cellula il codice genetico del Covid quindi non mi faccio il vaccino perché ho paura delle mutazioni ma rischio di prendere il Covid che può davvero dare mutazioni cioè è veramente illogico quindi detto questo non è che il Covid provochi sempre delle mutazioni genetiche quindi state attenti non vi allarmate eccetera eccetera c'è stato uno studio del MIT che ha dimostrato che in alcuni casi in simbiosi diciamo con altri virus o altre infezioni può dare questo problema quindi il punto che dovete portarvi a casa è che il vaccino non può provocare mutazioni anche perché se le provocasse ci sarebbero dei sistemi di riconoscimento e di correzione dell'errore che andrebbero sostanzialmente a risolvere il problema detto questo ragazzi queste erano le due fake news che volevo più che fake news sì fake news possiamo dire che volevo sconfessare voglio però parlarvi anche di cose positive perché poi sembra sempre che su di pensienza si meni sfiga e basta e invece oggi parliamo di una cosa positiva voglio infatti raccontarvi di una donna tale Lexi Wals biologa strutturale esperta in coronavirus che ha predetto circa tre anni prima la pandemia da covid è infatti appunto un'esperta di coronavirus e durante la sua discussione di dottorato aveva esposto i motivi per il quale questa specie di virus fosse particolarmente potesse darci un rischio particolare di subire una pandemia ovviamente non è stata minimamente cagata e poi la pandemia ovviamente è successo e proprio la famiglia di virus che diceva lei però non è tanto dei suoi poteri predittivi che di cui voglio insomma parlarvi oggi perché mi interessano poco anche perché come vi ho detto in altre puntate le pandemie o comunque questo genere di mutazioni di virus che passano alla specie sono prevedibili è chiaro che questa previsione non ci dà una data precisa è qualcosa a grandi linee in questo caso è molto evidente che il tempo era vicino tra la tesi di dottorato di Lexi e l'avvenimento storico ma non si può sostanzialmente si può prevedere che succederà ma non si può prevedere quando un po' come i terremoti diciamo e mi viene un altro esempio in mente adesso che anche per il climate change sappiamo che un giorno sarà un grave problema un giorno prossimo evidentemente ma ce ne occuperemo soltanto a casino avvenuto come e questa non è una critica diciamo che è abbastanza normale chi di noi diciamo da presidente ipotetico della terra avrebbe investito i pochi fondi a disposizione per un'ipotetica futura pandemia che forse sarebbe avvenuta o forse no o chissà quando chiaramente le cose si contrastano quando avvengono questo non è appunto da mettere in dubbio sarebbe bello avere una come dire una comunità scientifica con più fondi che possa diciamo muoversi prima rispetto a queste situazioni però per certi versi anche utopico perché tutto va fatto con un budget e questo budget non si può avere infinito per ogni cosa comunque a parte queste mie elugubrazioni mi interessa di più che questa donna tale lexi aveva fatto appunto uno studio aveva fatto è in corso appunto lo studio su una sua idea a proposito di una nuova classe di vaccini non solo di vaccini ma anche di farmaci contro diverse malattie causate da misfolding di proteine quindi cattivi ripiegamenti delle proteine e dopo vedremo perché questo è importante e quindi per curare tutta una serie di malattie da esse derivate quindi sia l'utilizzo di vaccini lo sviluppo di vaccini come per l'HIV piuttosto che per il covid ma anche come terapia di malattie da accumulo quindi per esempio l'Alzheimer o tutte le amiloidosi di cui parleremo sicuramente in una puntata a parte perché è importante questo suo studio allora i vaccini che usiamo al momento e prenderò come esempio quello del covid perché è quello di cui sicuramente sapete di più nel senso che oggi siamo tutti un po' virologi no? quindi mira al riconoscimento di una certa proteina come vi ho spiegato prima e generalmente ovviamente è una proteina di superficie nel caso del vaccino per il covid è la proteina spike che vi avevo spiegato già ai tempi oscuri che cos'è la proteina spike perché per come quindi andate a recuperare la puntata questa proteina viene riconosciuta dal sistema immunitario e quindi ci permette di immunizzarci tutto questo sistema ha tutta una serie di problemi problemi grossi da risolvere che stanno in parte alla base della un po' della lunghezza della produzione di questi di questi vaccini quindi ai tempi necessari a produrre questi vaccini e un po' all'efficienza stessa del vaccino che una volta prodotto comunque non ha un'efficacia del 100% e soprattutto non ha un'efficienza del 100% o di 1% in realtà perché l'efficienza se non sbaglio va da 0 a 1 quindi prima di tutto bisogna isolare questa proteina riconoscerla prima di tutto e questo non è facile perché parliamo di cose microscopiche uno dei problemi in realtà della biologia della medicina della genetica che si tratta sempre con dimensioni talmente piccole che porta un livello di difficoltà superiore rispetto a diciamo il macroscopico questo è diciamo evidente non devo spiegarvelo dopo aver riconosciuto questa proteina che magari non conoscevamo come nel caso della proteina spike bisogna poterla isolare e riprodurre riprodurre una proteina è molto difficile molto difficile però è difficile soprattutto se non conosciamo questa proteina e dobbiamo sostanzialmente andare a ricavare tutto il codice genetico del virus capire qual è la porzione del DNA o dell'RNA che produce tale proteina e poi riuscire a riprodurla tutto questo è una grande complessità altro problema è che tutto questo meccanismo come vi dicevo prima viene fatto a posteriori cioè non è che io posso prevedere la struttura di una proteina di un virus che ancora non conosco quindi prima succede la pandemia prima cioè dopo quindi conosco il coronavirus non la famiglia però diciamo il SARS-CoV-2 ecco e quindi dopo posso iniziare ad agire non prima e quindi questo mi fa perdere il tempo mi fa perdere le vite mi fa perdere sostanzialmente la capacità di reagire in maniera efficace nei confronti di un virus che magari come in questo caso provoca una pandemia e si spera di non averne più nel corso della storia anche se questo è anche esso abbastanza utopico ma forse non così utopico grazie appunto a Lexi e non solo e anche un po' a Google come dicevo prima poi c'è una scarsa efficienza dei vaccini che vengono prodotti questo vuol dire che il vaccino per il covid al momento ha una scarsa efficienza sì sì perché sostanzialmente cosa succede che la proteina spike all'interno o meglio all'interno sulla superficie del virus non è esposta è lì che si fa vedere e dice al sistema immunitario ehi bella sono qua mi vedi accende le luci si fa vedere assolutamente no in particolare poi la proteina spike è ricoperta da un'altra proteina quindi è fisicamente diciamo ostruito il riconoscimento rispetto al sistema immunitario non del tutto per fortuna perché altrimenti non saremmo riusciti a produrre appunto un'immunizzazione contro questo virus che invece è in parte riconoscibile ma questa proteina che ci sta sopra provoca una riduzione dell'efficienza del nostro sistema immunitario che è meno in grado di riconoscerla sia durante una prima esposizione anzi durante la prima esposizione se col vaccino è più in grado di riconoscerla perché la proteina che sta sopra in realtà non viene prodotta o meglio si viene prodotta ma è meglio riconoscibile comunque è un po' complesso questo argomento forse dovevo studiarmelo meglio prima di spiegarvelo perché è difficile da spiegare è facile da capire è difficile da spiegare quindi all'interno del virus anzi sulla superficie del virus quindi è coperta da questa proteina quindi il sistema immunitario sostanzialmente non riesce a vederla bene questo è il punto ci siamo capiti il problema con le proteine è che al momento nel nostro periodo storico le proteine sono un grande abisso di ignoranza da parte della scienza della medicina e della biologia eccetera eccetera perché hanno una variabilità immensa quindi sarebbe bello poter avere un database di tutte le proteine passate e future possibili ma questo ha talmente tanta variabilità che è sostanzialmente impossibile anche solo da pensare o meglio è stato impossibile da pensare fino a quest'anno perché ci sono state diverse innovazioni che non ci hanno ancora dato il risultato finale lo vedremo soltanto fra qualche anno anzi forse fra qualche decina d'anni ma che ci hanno messo sulla strada giusta da percorrere ed è per questo che ho chiamato questa puntata nuove frontiere le proteine infatti hanno una variabilità immensa non solo perché vengono prodotte da diversi pezzi del dna quindi già di per sé hanno una loro variabilità ma arriviamo proprio alla proteina già costruita la proteina già costruita di per sé non è soltanto un incasal non riesco a dirlo un infilarsi cambiamo parola di amminoacidi in un certo ordine una proteina è molto più complessa di così nel senso che ogni amminoacido ha delle interazioni elettriche chimiche con ciò che sta attorno quindi con l'acqua all'interno della cellula con le altre proteine che stanno all'interno della cellula con tutta l'infinità di sostanze che stanno all'interno di una cellula o fuori di una cellula e quindi subisce sostanzialmente un ripiegamento su se stesso e anche questo ripiegamento è dato da tutte queste migliaia di forze che agiscono sulla proteina stessa non appena viene prodotta che gli fanno prendere appunto la giusta conformazione e quindi questa conformazione va poi a influire sulla funzione che avrà questa proteina quindi una proteina può avere benissimo tutti gli amminoacidi al posto giusto ma non per questo è per forza corretta quindi se prende una conformazione sbagliata è una proteina che non sarà efficace per il ruolo che deveva svolgere magari sarà tronca magari acquisirà una capacità che non dovrebbe avere quindi può portare anche qui ad alcune malattie insomma c'è una complessità immensa dietro alla costruzione delle proteine e questo porta al fatto che non riusciamo sostanzialmente a prevedere la conformazione di una proteina se non di quelli che conosciamo proprio nel dettaglio che sono in realtà molto poche Lexi Walls quindi insieme a un'altra ricercatrice Brooke Fiala hanno appunto pensato di poter riprodurre delle proteine modellandole sostanzialmente loro cioè immaginando quale sarebbe stata la la struttura finale della proteina stessa in realtà esiste anche una gara di nerd possiamo dire di persone che con uno scopo scientifico ovviamente non è una questione di solo gioco ma è una gamification della della genetica della scienza della biologia che in questo gioco bisogna prevedere avendo sostanzialmente un insieme di aminoacidi la forma delle delle proteine a questo gioco perdono tutti nel senso che partecipano maggiori scienziati in questo campo e la capacità di successo di questi scienziati è limitata alle proteine sostanzialmente che conosciamo alla perfezione quindi questo per farvi capire quanto è innovativa e forse folle quest'idea di Lexi Wals e di Brooke Fiala pensare di poter prevedere come sarà una proteina quindi la capacità di prevedere la conformazione di proteina porta al fatto che noi a questo punto possiamo prevedere le nuove proteine quindi identificare magari delle proteine che non abbiamo ancora visto in natura o che non abbiamo ancora riconosciuto in natura e quindi conoscerle profondamente anche a livello diciamo genetico e questo aprirebbe uno scenario infinito di possibilità rispetto a come dicevo prima la cura di alcune malattie o la produzione di alcuni virus eh sì la produzione di alcuni vaccini quindi come dicevo questo era impensabile fino a quest'anno perché troppo complesse troppo variabili fino all'arrivo di un programma un programma fantastico si chiama DeepMind è un programma di proprietà di Google che sostanzialmente consiste in una intelligenza artificiale che è risultato avere una affidabilità in quel gioco di cui vi parlavo prima di circa una decina di volte almeno e va soprattutto ad imparare quindi a migliorare questa sua capacità di prevedere le strutture delle proteine questo so che per voi che magari siete sul divano o state facendo altro può sembrare qualcosa di sciocco o qualcosa di poco importante in realtà questo è diciamo lo scenario che porterà alla nuova medicina porterà alla nuova genetica porterà alla cura di malattie che finora abbiamo solo sognato di poter curare tra cui il cancro e quindi è veramente fondamentale questa scoperta io l'ho accolta con immensa gioia insomma di questa scoperta di questa nuova tecnologia di come stiamo utilizzando appunto la tecnologia a nostro favore e c'è anche in realtà una controversia che non so se dirvi ma vorrei lasciarvi un po' con il dolce in bocca ma vabbè ve lo dico lo stesso perché io non mento mai e non nascondo niente soprattutto no sto scherzando questa potrebbe essere anche la nuova frontiera per nuove battaglie diciamo batteriologiche quindi c'è anche il risvolto della medaglia però come sempre il problema non è dello strumento ma è di come lo si usa quindi io rimango contento e felice della mia piccola scoperta che ho fatto in questi giorni leggendo le scienze e della appunto di questa in realtà enorme scoperta che ci permetterà di sostanzialmente forse ripensare a tutta la biologia e alla medicina e alla genetica che conosciamo e che abbiamo conosciuto fino al 2021 quindi ragazzi io la puntata l'ho finita spero di averla portata a termine con un minimo di decenza anche se il mio cervello ormai sta perdendo i colpi vi ricordo che se volete darci una mano potete seguirci su instagram potete condividere la puntata sui vostri social potete iscrivervi sia che mi stiate ascoltando su apple podcast sia su spotify così la prossima puntata che pubblicherò vi arriverà una fantastica notifica e non ve ne perderete neanche una così vi posso raccontare tutte le minuzie della scienza tutte le nuove scoperte se siete su apple podcast ricordatevi di lasciare una bella recensione a 5 stelle con una bella scritta per andre che l'altro giorno ha letto una recensione a 5 stelle veramente sublime adesso non ricordo il nome l'ho mandata sul gruppo grazie chi l'ha fatta perché mi ha messo di buon umore tutta la giornata quindi con questo io vi lascio io me ne vado a vedere la presentazione apple e a sognare di essere ricco e magari anche di godermi una gustosa cena vi auguro una gustosa cena altrettanto e ci sentiamo martedì prossimo con una nuova puntata di Deep in Scienza ciao